Oggi ci troviamo qui per affrontare una notizia che tiene con il fiato sospeso milioni di cuori in tutto il mondo, le condizioni di salute del nostro amato Papa Francesco. La domanda che si pone oggi è Come sta il Pontefice? Un uomo di fede, guida spirituale per molti, ora al centro di una situazione che ha toccato il cuore di tutti noi. Ora entriamo nella notizia. In un momento come questo, dove le notizie si fanno sempre più terribili, è impossibile non essere coinvolti emotivamente. Vi invito a restare incollati a questo video, non solo come spettatori, ma come una comunità unita dal desiderio di conoscere la verità, di condividere il dolore e la speranza. Le condizioni di salute del Papa, purtroppo, sono oggetto di preoccupazione crescente, A 87 anni, Papa Francesco, un uomo il cui carisma e dedizione hanno ispirato milioni di fedeli nel corso degli anni, si trova ora a dover affrontare sfide legate a patologie che mettono a dura prova la sua resistenza e forza interiore. Il Pontefice, simbolo di tenacia e coraggio, si è sempre distinto per la sua capacità di affrontare le avversità con dignità e speranza. Tuttavia, le attuali difficoltà legate alla sua salute rappresentano un momento delicato e difficile, non solo per lui, ma per tutta la comunità globale che guarda a lui come a un leader spirituale. Le patologie che affliggono Papa Francesco non sono solo fisiche, ma portano con sé un peso emotivo e spirituale. La sua resilienza è stata messa alla prova e l'umanità condivide il dolore di vedere un simbolo così forte e amato attraversare un periodo così difficile. In questo momento di incertezza, la comunità globale si unisce nel desiderio di forza, guarigione e serenità per il Papa. Le sue sfide personali si traducono in un richiamo a riflettere sulla fragilità umana e sulla necessità di solidarietà in tempi di difficoltà. Mentre attendiamo notizie sull'evoluzione della sua salute, ci uniamo nell'esprimere il nostro affetto e il nostro supporto a Papa Francesco, un uomo che ha ispirato e continuerà a ispirare molti con la sua fede incrollabile e il suo impegno per il bene comune. Papa Francesco, un uomo la cui figura ha permeato le coscienze di milioni di credenti, è al centro di una notizia che non possiamo ignorare. Come stanno vivendo questo momento coloro che guardano a Papa Francesco come a una guida spirituale? Vi invito a commentare qui sotto. La sua influenza spirituale ha ispirato la fede e la speranza in tutto il mondo, unificando cuori e menti attraverso il suo messaggio di amore, tolleranza e compassione. In questo momento di dolore e incertezza legato alle sue condizioni di salute, il Papa diventa il simbolo tangibile di una connessione profonda tra la fede di molti e il destino della Chiesa Cattolica. Il suo dolore diventa il nostro dolore, la sua lacrima la nostra lacrima, in quanto il legame tra il leader spirituale e la comunità ecclesiastica è intrinseco e condiviso. Ancora una volta, il destino di Roma, della Chiesa e di tutti noi si intreccia in questo dramma. L'urbe, simbolo secolare di storia e spiritualità, si ritrova ad affrontare un momento cruciale. La Chiesa, con il suo leader carismatico, è chiamata a fronteggiare le avversità e a mantenere la fede in un periodo di incertezza. Il dramma che si sviluppa diventa un richiamo all'unità e alla solidarietà. Ma prima di continuare, se ti piace rimanere aggiornato sulle notizie più recenti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. In questo momento critico, ciò che accade a Papa Francesco risuona in ogni angolo della comunità cattolica e oltre. Le preoccupazioni e le speranze si mescolano, creando un senso di connessione profonda che supera le barriere geografiche e culturali. Mentre attendiamo ulteriori sviluppi e notizie sulla sua salute, rimaniamo uniti nel sostegno reciproco e nell'auspicio di una pronta guarigione per Papa Francesco. Il suo impatto globale non può essere sottovalutato e la sua eredità spirituale continuerà a illuminare il cammino di coloro che cercano guida e ispirazione nella fede. In un momento in cui il cuore della fede è messo a dura prova, continueremo a tenervi informati su ogni sviluppo. Vi ringrazio per la vostra attenzione e la vostra partecipazione. Condividete questo video con chiunque crediate possa trarne conforto o speranza. Ci vediamo alla prossima notizia.